Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati. Siamo come sempre in diretta con la nostra rassegna stampa mattutina. Armati della nostra quasi infallibile bacchetta magica, ci spostiamo al nostro touch wall per scoprire insieme le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali. Partiamo come di consueto con la Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina, quella dell'edizione di Bari. Andiamo a vedere il titolo, il telelavoro, un tocca sana per i dipendenti comunali, i dati dell'amministrazione, il picco registrato nella settimana tra il 13 e il 18 aprile con certificati dimezzati poi in effetti a giugno. Le assenze per malattia sono crollate di un terzo in tre mesi. Con la nuova modalità produttiva inalterata, pace piace, anzi resterà molto diffusa di spalla. Flavio Campanella parla di smart working, terapia moderna tranne per chi lavora all'Inps. Quei poveretti dell'Inps per gestire le pratiche bonus per autonomi e babysitting, più estensione di congelo parentale 104, reddito d'emergenza, CIG in deroga, più l'ordinario, hanno fatto l'istraordinaria a tal punto da maledire. Covid-19, cura Italia, rilancio è agosto, così scrive appunto la Gazzetta. Guardate quest'altra foto, Gianfranco Colonna, gelataio di gravina con Gazzetta e coni gourmet. Gianfranco Colonna è noto nella città murgiana per, leggiamo, l'inesauribile fantasia nel battezzare i gusti di gelato. Da veleno per le suocere, pensate all'ultimo desiderio per citare degli esempi, ma confessa nel periodo del lockdown lavorare senza la Gazzetta era più triste del solito. Ora il giornale è tornato. Andiamo di spalla, il dibattito San Cataldo, petizione dei residenti contro le auto con la nuova viabilità sul lungomare che crea qualche problema evidentemente, poi a ruvo la cronaca a malore fatale in spiaggia per un 82enne. Accorato per Rone si candida e compatta il centro-destra. Polignano Luca Bianchini presenta il suo libro. Andiamo sul taglio basso a Bitonto, altro rogo sui terreni incolti, ma stavolta scatta l'arresto. Un 59enne sorpreso in flagranza dai carabinieri. Cinema Accord, il film surreale girato a Putignano nel 91. Un mix di antico e moderno nel da dodà di Cirasola. Andiamo avanti, ancora Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina, quella dedicata all'edizione del Salento. In primo piano l'indotto Exilva perché salta l'incontro e la Morselli snobba il governo. Questo accade proprio nelle ore che hanno registrato le visite in Puglia e in Salento del Premier Giuseppe Conte, del confronto domenica sera a Cegli, l'abbiamo visto insieme al Canale 8580 Sud in diretta, c'era il Premier Conte che ha incontrato anche i genitori tarantini che però si dicono insoddisfatti. Le ditte dell'appalto attendono poi il pagamento di forniture per quasi 40 milioni. Nella foto invece vediamo proprio l'incontro della delegazione di genitori tarantini con il Premier Conte e il sottosegretario turco. Virus salentini contagiati a rientro da vacanze, 5 erano stati in Grecia, 1 a Malta. I nuovi casi riguardano tutte persone assai giovani. A Galipoli intanto cittadinanza attiva invita la prudenza nelle discoteche sempre più affollate. La cronaca quella più nera, lo schianto tra auto. Ieri pomeriggio ha perso la vita un bambino di 16 mesi sulla strada che da Erchie conduce al santuario di San Cosimo. Una vera tragedia in cui ha perso la vita il piccolo Isaia Valente. Ne parleremo anche nel telegiornale. Di spalla Antonio Licchiello, segretario Wille Brindi. Si parla delle diatribe da cortile che allontanano lo sviluppo. Dall'altra parte invece a Taranto un piano scuole stanziato un milione con Leucci che dice ripartiremo in sicurezza. Ha firmato il protocollo. Andiamo a vedere gli strilli. Brindi si porta o ci accordo sulle opere a Capobianco. 275 Maglia Leuca ha una seconda annata a risarcire agricoltura per i terreni occupati. Leuca invece fiamme dal motore della barca. 19enne ricoverato d'urgenza. A Taranto rissa tra nigeriani. Tre denunce della polizia. Feste patronali. Lecce le statue dei patroni in piazza Duomo per i fedeli con accessi contingentati e niente processione. Ancora Gazzetta del Mezzogiorno. Prima pagina dedicata a Foggia e Bat in primo piano. Covid-19 perché la curva si impegna. Quattro ricoverati del ghetto. Il policlinico di Foggia si prepara. Test sierologici alla popolazione. 9 positivi in Capitanata. Dopo due mesi nuovo ricovero per coronavirus in terapia intensiva. Andiamo ad ingrandire. Guardate, gli extracomunitari tutti asintomatici. Dice Piazzolla. Quadro in Capitanata monitorato di continuo. Intanto si va verso le regionali perché Zini sarà candidato nella lista PD dell'Abbatto. Oggi il direttivo a Bari. Ci sono poi i due editoriali. Filippo Santigliano. Saracinesca è abbassata. È drammatico il post-pandemia. Michele Cristallo. Cultura e città a lutto. Se va in crisi una casa editrice. Scorriamo la pagina. Taglio medio dedicato al concorso dei vigili urbani. Quanti aspetti da chiarire a Barletta e poi invece gli strelli. Monte Sant'Aggelo. Il sindaco difende il progetto Aggelo in zona macchia. Barletta. La gioia di Lotharo per la nomination negli Stati Uniti. San Severo. Immobili confiscati alle cosche mafiose. Calcio. Progetto Slai Trani. Il sindaco presi in giro. Città e tifosi. Criminalità scatenata. A Cerignola. Nuovo assalto. Fugone portavalori. In A14. Dopo quello registrato lo scorso 25 luglio. Poi il fatto. Andrea. Pistolero maldestro. Ferisce il fratello. Non è grave. Voleva difenderlo dopo un litigio in zona. Porta. Sant'Andrea. Ripescaggio in Serie C per lo sport. Il 13 agosto. Il Foggia. È comunque fiducioso. Cambiamo testata. La prima pagina nel nuovo quotidiano di Puglia. Edizione Brindisi. In primo piano la cronaca con lo scontro. muore un bimbo. Tragico incidente sulla provinciale Ercheoria. Il piccolo di appena 17 mesi era in auto. Schiantatasi con un'altra macchina. Ferite anche la mamma e la sorellina. Ma non sarebbero gravi. Contagi. Invece la nuova impennata. Positivi. Cinque ragazzi tornati dalle vacanze in Grecia. I casi registrati ieri in Puglia sono 26. Nessuno ha Brindisi. Andiamo a vedere di spalla. L'analisi con il referendum e la carta costituzionale da incerottare di Massimo Adinolfi. E poi le riflessioni di Isaia Sales. Il vittimismo settentrionale e la lezione della Germania. Guardate questa foto. Rifiuti in spiaggia. L'Adoc accusa timori per la notte delle stelle. Con l'Adoc che ha segnalato la presenza di rifiuti abbandonati in spiaggia. Accusando le varie comitive di giovani che prendono assalto gli arenini per la notte di San Lorenzo. L'associazione si scaglia contro le comitive di giovani che frequentano le spiagge. Lezioni anche in B&B ed hotel. Caccia alle aule con le scuole in difficoltà di fronte alla ripresa di settembre. Poi Goletta Verde boccia la fonte del canale reale con i dati del nuovo monitoraggio. Strani malori tra chi fa il bagno. Torna la paura dell'alga tossica. Segnalazioni da Villanova a Costa Merlata. Andiamo avanti. Sempre un nuovo quotidiano in prima pagina. L'edizione di Taranto con l'indotto. Ancora buio pesto. La D di Arcelor Vittal Morselli assente. Salta il vertice con i sottosegretari Turco e Todde. Chiesto da Confindustria. Le imprese vantano crediti per diverse decine di milioni di euro. Sotto la testata si parla di regionali. di confitto che presenta la lista di Fratelli d'Italia Cersiletti, il generale del piano anti-Xylella e poi gli appuntamenti musica, teatro, ville antiche degustazioni e Martina in festa per i suoi 710 anni. Scorriamo la pagina con anche qui nuovi contagi e l'impennata. Positivi cinque ragazzi tornati dalla Grecia per la cronaca. Invece l'agguato a colpi di pistola. Un 39enne ferito in città vecchia stava pedalando con la sua bicicletta tra i vicoli domenica sera quando due uomini scooter si sono avvicinati e gli hanno sparato alle gambe. In basso invece una serie tv sull'uccisione di Sara. A dirigere sarà Pippo Mezzapesa, dieci anni fa, la morte della quindicenne di Avetrana. Si parla anche qui dello scontro nel Brindisino e della morte del bimbo di 17 mesi con ferite la mamma e la sorella. Nuovo quotidiano di Lecce. Il virus arriva con i ragazzi, questo è il titolo. Contagiati i 16-19 anni, cinque sono appena arrivati dalla Grecia, uno è stato a Malta, familiari e amici monitorati per evitare focolai. Polemica per gli scarsi controlli all'estero. Niente feste grigliate in spiaggia, lo stop a Malendunia-Dotranto, le ordinanze dei sindaci contro assembramenti e falò. E poi scorrendo la pagina, guardate questa foto, presentato ufficialmente il nuovo responsabile dell'area tecnica del Lecce. Pataleo Corvino, eccomi, sono pronto a fare del Lecce una grande squadra. È cominciata ufficialmente ieri per il Lecce. L'era Corvino presentato dal presidente Sticchi Damiani. Darò tutto per lasciare il Lecce alla fine del mio ciclo, dove l'avevo lasciato l'ultima volta. Così appunto, Pataleo Corvino. Scorriamo la pagina, falso nome su Facebook e Whatsapp, per adescare minorenni. È stato preso l'indagine tra Palermo e Salento, e anche qui si parla dello scontro nel Benedicino. Ne parleremo tra poco nel nostro telegiornale. Intanto però passiamo sul nazionale, con la prima pagina del Quotidiano alla Repubblica. Lo scandalo dei Bons, mai più ai parlamentari. Continua a tenere banco la polemica ferragostana. Norma retroattiva del governo per restituire i soldi anche a consiglieri regionali e sindaci. Fa restituire i soldi anche a consiglieri regionali e sindaci delle grandi città. Nessuno dei cinque onorevoli esce allo scoperto. In 5 Stelle è rinunciata la privacy. Indagine della Lega tra gli eletti Laraggio. Intanto mi ricandido a Roma. Dubbi dei grillini dopo il no del PD. Per quanto riguarda gli esteri, Libano, Berut, il Premier si arrende. È la prima vittoria della rivolta. In questa foto guardate la scritta comparsa nella zona dell'esplosione. My government did this. Il mio governo ha fatto questo. Andiamo a pagina 2. Andiamo ad approfondire con il bonus ai parlamentari che dovrebbe andare via. Il governo studia in qualche modo una restituzione. L'idea di una norma nel decreto agosto che obblighi anche i consiglieri regionali e sindaci di grandi città a ridare i soldi. L'ANAC, i sussidi vanno pubblicati. Destra e Italia Viva chiedono le dimissioni di Tridico di Maio. Il referendum ora ha più senso. In effetti sembra davvero una bella campagna per il referendum sul taglio dei parlamentari. Scorriamo la pagina con l'intervista alla Vice Ministra all'Economia dei Cinque Stelle. Castelli, bisognava far presto. Niente limiti di reddito per non escludere nessuno. Per l'esponente grillina, eventuali casi nel movimento vanno accertati. Sicuramente chi non rispetta i nostri principi va tenuto fuori. Il sospetto dell'opposizione. La notizia è diffusa adesso per favorire il sì al taglio dei parlamentari. È un'ipotesi che andrebbe sicuramente analizzata. Ma il caso comunque c'è, esiste, perché caccia i deputati con i Cinque Stelle che rinunciano alla privacy indagine interna della Lega. Solo in tre hanno ricevuto il bonus. Due leghisti e un grillino. Due è stato negato. Pioggia di smentite dai sospettati. E c'è chi non si fa trovare. Andiamo a vedere perché c'è chi dice, insomma, noi non centriamo niente. Andiamo a vedere. Si tratta di Massimo Bitonci, ex sindaco leghista, commercialista. Mai preso nulla, dice. Domenico Furgele, coordinatore della Lega in Calabria. Non ho più neanche partita IVA. Nicola Kunzo, l'ex Cinque Stelle nega. Mi spiace, si possa pensare che sia stato io. In effetti qualche nome era anche trapelato. Intanto scattola le proteste. Guardate questa foto. 100% reddito di quarantena. Ma serviva una norma che arrivasse nel giro di pochissimi giorni e non si poteva rischiare di non dare supporto a chi ne aveva bisogno. Lo dice sempre Laura Castelli nel Movimento Cinque Stelle, viceministra all'Economia. Italia Viva chiede le dimissioni di Tridico, si indignino con i deputati che non vengono allo scoperto, non chi rispetta la legge sulla privacy. Ritorniamo in Puglia con la prima pagina della Repubblica di Bari e ritorna anche il virus, o meglio il titolo. Ritornano con il virus, con chi è stato all'estero e poi tornato in Italia. Ed è risultato positivo al tampone. Intanto il boom di contagi sono 26, per poco meno di 700 tamponi. Riprendono i ricoveri in rianimazione dal Salento albarese. Ragazzi contagiati dopo la vacanza all'estero. Loparco dice restate in Italia. Prima di chiudere, Corriere dello Sport Stadio con Immobile, che giura fedeltà alla Lazio, Lazio al Vita, Scarpadoro segna il gol più importante. Ma poi scorrendo la pagina c'è un immenso Romero Lukaku con l'Inter che batte il Bayern Leverkusen. ieri sera 2 a 1 e lunedì c'è la semifinale di Europa League. Il belga, grande protagonista contro i tedeschi, va in rete, trascina la squadra. Al successo assegna anche un ottimo Barella e Conte dice vogliamo il massimo. Noi così rientriamo in studio. Lo facciamo per ringraziarvi per la solita e cortese attenzione. Vi chiediamo di avere un po' di pazienza, un po' di pubblicità. Restate con noi perché torniamo tra pochissimo con la prima edizione del nostro telegiornale, sempre in diretta. Tra poco. La mia casa è qui In questa cucina mi sento regina Da nuovo arredo, continua la promozione, acquista subito e paghi a gennaio. Goditi le vacanze. Nel mese di agosto, acquista subito e la prima rata è a gennaio 2021. Nuovo arredo, da noi ti senti a casa. Nuovo arredo, da noi ti senti a casa. Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo. Il proprio momento magico. Il rito del caffè. Che sia al bar o che sia a casa. Caffè Fadi è sempre con te. Caffè Fadi. Una bella sorpresa. Il tuo corpo è unico. Ogni materasso Unibed agisce in modo unico. Un materasso Unibed si adatta alla forma del tuo corpo. Soffice dove serve e ti sostiene dove ne hai bisogno. Il materasso Unibed ti regala il miglior riposo possibile insieme ad una sensazione di assoluto benessere. I centri Unibed sono a Brindisi, in via Bastioni San Giorgio. A Mesagne, in via Mannarino, dove trovi anche una vasta scelta di tessuti. A Taranto, in via Le Virgilio 119. E a Lecce, sulla circonvallazione in via Giacomo Leopardi 120. www.unibed.it Il Dandy cambia pelle. Uno stile nuovo. Un menù tutto da scoprire. In versione bistrò. Per la tua pausa caffè e non solo. Dandy bistrò. Caffetteria. Lounge bar. Braceria e pizzeria. A Francavilla Fontana, in Viale Lilla 96. Ben rientrati in studio, come sempre in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano, la cronaca, quella più un'era, con il tragico scontro registrato ieri pomeriggio sulla strada provinciale che collega il santuario di San Cosimo alla Macchia con la vicina Erchia. Pochi chilometri dall'ingresso in città. Un impatto frontale tra due vetture che ha causato la morte di un bambino di poco più di un anno. In tutti i dettagli, nel nostro primo servizio. Forse un colpo di sonno, forse il sole negli occhi, forse una fatalità, una tragedia. Tragedia vera perché nello scontro tra due auto sulla strada provinciale che collega il santuario di San Cosimo alla Macchia ha perso la vita il piccolo Isaia Valente, neppure un anno e mezzo, a causa di alcuni traumi riportati al torace. A nulla sono serviti i soccorsi disperati degli operatori del 118, pure loro in lacrime davanti al corpicino esaminime del bambino, seduto nel seggiolino posizionato nella lancia Ypsilon condotta dalla madre, in ospedale insieme alla sorellina di Isaia. Anche lei è in auto. In ospedale, pure il conducente dell'altro mezzo coinvolto, una Ford Fiesta guidato da un uomo originario di Francavilla Fontana, al rientro a casa dopo una giornata di lavoro. Le loro condizioni di salute, al netto dei traumi riportati, non destano particolari preoccupazioni tra i medici dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Una tragedia vera, appunto, la morte di Isaia spezza il cuore di due comunità. Quella di Erchie, paese di origine del padre, dipendente Enia Brindisi, e quella di Torre Santa Susanna, paese di residenza della famiglia della madre del bimbo, nipote dell'ex sindaco Domenico Morleo. Una tragedia e basta. Come ha detto Michele Saccomanno, sindaco di Torre, in poche sentite parole di cordoglio. Immagino un mondo, ha detto il sindaco, dove i bambini debbano vivere per sempre al fianco dei loro genitori. Andiamo a Taranto per parlare di scuola. Ieri è stata firmata un'importante convenzione. Un milione di euro subito, grazie ad un mutuo comunale, per adottare tutte le scuole medie cittadine di apparecchiature e strumenti tecnologici per la didattica, utili sia per le lezioni in presenza che in smart working. E poi in chiave futuro una ricognizione già diata anche con il governo, per individuare 40 milioni di euro per la completa ristrutturazione dell'intera edilizia scolastica cittadina. Sono i punti focali della convenzione Aula 3.0, firmata tra il Comune di Taranto e l'Ufficio Scolastico Regionale, sottoscritta rispettivamente dalla sindaco Melucci e dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Anna Cammalleri. Entrambi salutano con soddisfazione l'avvio del piano scuola. Sono già partite le gare per mettere in sicurezza, in accordo alle linee guide del Ministero, tutte le scuole di nostra competenza entro settembre, giorno più, giorno meno. Abbiamo anche eseguito una ricognizione che quota qualcosa come 40 milioni per rinnovare tutta l'edilizia scolastica di competenza comunale, qui ovviamente ci servirà qualche anno di lavoro e ci stiamo confrontando anche col governo su questa fattispecie. Ma nel frattempo con questa convenzione un altro milione di euro, un mutuo di risorse come dire, proprie comunali per fare elevare la didattica, la qualità del lavoro dei nostri ragazzi, dei nostri docenti. Credo che sarà anche nell'ipotesi remota di qualche altro lockdown come dire, un contesto di maggiore agibilità per le nostre famiglie. Ripeto, lo abbiamo fatto cercando di immaginare un nuovo modo di fare scuola, un nuovo modo di vivere anche le difficoltà come quelle del lockdown. È il senso di un raccordo tra istituzioni che intendono anche rendere eccellente quella qualità del sistema scolastico locale che già c'è. E questo grazie anche alla possibilità di mettere insieme le risorse in maniera sussidiaria ma con un'idea di governance molto molto efficace. Io credo che il primo settembre sarà varata un'operazione importante che è realizzata grazie allo sforzo di tutti i dirigenti scolastici e noi ci ripromettiamo che da quella data in poi entreremo noi nelle scuole anche per vedere il senso di tutta questa grande fatica che stiamo portando avanti. Presenti anche molti dirigenti scolastici che sottoscriveranno successivamente il documento per gli istituti di competenza comunale. Rieccoci in studio, a Lecce ieri è presentato il piano coste e ci dice tutto. Giuseppe Andriani. Affermare la unicità della nostra costa, di ribadire che Lecce è il suo mare, di ricordare la ricchezza del suo patrimonio ambientale e paesaggistico, di lavorare per tutelarla, proteggerla e valorizzarla. E' questo l'obiettivo del piano comunale delle coste presentato dall'Aggiunta Salvemini dopo una lunga fase di discussione. Dalla pubblicazione sul sito ufficiale del Comune vi saranno altri 30 giorni per le proposte dei soggetti interessati. I numeri del piano parlano di 26 stabilimenti balneari, attualmente sono 27, 24 spiagge libere con servizi, che oggi non esistono, 11 chioschi invece che 2 e 4 concessioni per attività sportiva. Il piano delle coste viene presentato con una visione dinamica e integrata. Accanto alla tradizionale concessione balneare, usi che possono essere sportivi, usi culturali, usi naturalistici, più tutto il tema di cui forse si parla di meno, ma anche per noi ha un significato di interesse pubblico straordinario, che è quello dei servizi, dell'accessibilità, della mobilità, della pulizia, dell'igiene, tutto ciò che ruota attorno al nostro sistema di posta. Quattro i temi strategici del piano, accessibilità al mare, delocalizzazione delle attrezzature e degli usi demaniali, diversificazione degli stessi usi, rigenerazione e tutele, valorizzazione paesaggistica e storico-culturale. Realizzata anche una carta della residenza all'erosione, attualmente la costa in erosione per le marine leccesi corrisponde a 4,4 km. Noi continuiamo ciclicamente a registrare questo problema strutturale che abbiamo dell'erosione costiera, ma non la misuriamo. La prima cosa da fare in presenza di un fenomeno dinamico che sta erodendo sempre di più i nostri arenili, dobbiamo monitorarlo, misurarlo e controllarlo. Il monitoraggio costiero è uno strumento attivo, strategico del piano comunale delle coste, che il nostro piano immagina in collaborazione con i balneari, perché abbiamo costruito un piano che ha come visione proprio quella della collaborazione, quella della condivisione dei problemi e quindi delle soluzioni. Con il prossimo servizio affermato da Leo Spalluto, torniamo ad occuparci del caso della terapia intensiva neonatale all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, con politici e associazioni che rispondono all'ASL. Vediamo. Continua a tenere banco il caso dell'unità terapia intensiva neonatale UTIN dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La direzione sanitaria dell'ASL IONIC, a fronte di una riduzione delle risorse mediche, ha comunicato in prima analisi una serie di interventi. I medici dell'UTIN saranno supportati dalle unità operative di ostretrice e ginecologia e di anestesia, alla fine di garantire le migliori cure ai bambini e alle bambine appena nati. In seconda istanza, per i casi più complicati, sarà attivato lo STEN, il sistema di trasporto in emergenza del neonato presso il Policlinico di Bari. Scelte che hanno suscitato una corposa serie di reazioni negative e cariche di preoccupazione. Secondo Giampaolo Vietri, consigliere provinciale e comunale di Taranto di Fratelli d'Italia, le rassicurazioni del direttore generale dell'ASL non convincono in merito alla paventata chiusura dell'unità di terapia intensiva neonatale a Taranto. Si parla di un'emergenza temporanea, dice, ma nulla si dice della mancanza di programmazione che impedisce a questo e altri reparti ospedalieri di garantire al personale sanitario e ai pazienti una normalità che purtroppo manca da diverso tempo. Secondo Vito De Palma, consigliere comunale di Ginose e coordinatore cittadino di Forza Italia, il ritornello è sempre lo stesso, carenza di medici e quindi è sufficiente un'indisposizione o un periodo di ferie di uno o più specialisti per mandare in tilt un'unità di terapia intensiva essenziale, quella neonatale appunto, costringendo a trasferire a Bari i casi più critici. Per la presidente dell'associazione Giorgio Di Ponzio, Carla Luccarelli, l'Utin non chiude ma è comunque declassata. Questo vuol dire che tutti i neonati con meno di 32-34 settimane di età gestazionale verranno trasferiti nel centro AB, ovvero a Bari, e il disagio sarà grandissimo. Qualcuno parla di quattro casi l'anno, dice Luccarelli, a noi risultano molti di più, ma non cambiano i termini della questione. Non è possibile che una delle più importanti realtà del Paese continui a subire tagli e declassamenti. Dopo tante recenti polemiche, una buona notizia per il Porto di Brindisi. Un protocollo d'intesa firmato tra Cassa Depositi e Prestiti e Torità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per rafforzare la cooperazione tra le parti e per favorire e accelerare la realizzazione di infrastrutture di sviluppo delle aree portuali. Tra gli investimenti ci sono la riqualificazione del molo San Cataldo del Porto di Bari e i lavori nell'area di Capobianco del Porto di Brindisi. Un tema sicuramente di grande attualità dopo le polemiche degli ultimi giorni legate all'esclusione di finanziamenti per il Porto Brindisino. Nello specifico, l'intervento per Brindisi riguarderà lo sviluppo dell'area della colmata di Capobianco ex British Gas, al fine di renderla attrattiva per l'insediamento di un operatore terminalista di primaria importanza internazionale. Cassa Depositi e Prestiti, in linea con il Piano Industriale 2019-2021, attiancherà l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in tutte le fasi, che porteranno alla realizzazione di queste opere strategiche per i porti e le città in cui si trovano, dalla programmazione all'esecuzione, passando anche per la progettazione e l'affidamento dei lavori. Inoltre, Cassa Depositi e Prestiti valuterà eventuali richieste di finanziamento da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento. Il supporto offerto prevede anche l'attività di consulenza tecnico-amministrativa per la progettazione, l'esecuzione e lo sviluppo del partenariato pubblico-privato relativamente alle infrastrutture di diverse aree strategiche, come detto, nei porti di Bari e di Brindisi. Ancora cronaca con il sabotaggio dei vigili del fuoco via elicottero di un uomo caduto dalla scogliera a Santa Maria di Leuca. Non era possibile soccorrerlo da terra né tantomeno da mare. Per raggiungere un imprenditore 61enne di Galliano del Capo, titolare di un'azienda che produce calze, caduto accidentalmente dalla scogliera, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con un elicottero partito da Bari. L'episodio si è verificato a Santa Maria di Leuca. L'uomo si trovava sul tratto di scogliera che si affaccia sulla strada provinciale 214 quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un punto particolarmente impervio per i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco, la zona è stata raggiunta da un'ambulanza del 118, dai carabinieri della Compagnia di Tricase e a bordo di diverse motovedette acquascooter, gli uomini della Guardia Costiera insieme agli operatori del 118 mare. Sia da mare che da terra era impossibile raggiungere in sicurezza la zona così si è optato per l'unica soluzione possibile, un elicottero. Una volta raggiunto il luogo dell'incidente dall'elicottero è stato fatto scendere con la funa un operatore del nucleo SAF. La vittima è stata imbraccata, tirata su e trasportata al Vitofazzi di Lecce. Ha riportato un trauma cranico, contusioni multiple e probabili fratture. A Grottaglie c'è un barista che è più forte della pandemia, guardate. Ciao, ciao a tutti. Uno degli ultimi post che avevo scritto era andrà tutto bene. Per me non è andato bene. Il bar chiude. Questa pagina ha finito di pubblicare i miei espressini. Mi dispiace. Aveva deciso di chiudere e di abbandonare per sempre la sua attività. Le difficoltà causate dal lockdown apparivano insormontabili. L'incertezza, gli ostacoli della burocrazia per accedere ai prestiti. La paura di non farcela si era ormai trasformata in disperazione. Da qui la decisione di alzare bandiera bianca. Zio Carlo, come lo chiamano affettuosamente in città, si era arreso agli eventi della pandemia. L'ultimo passaggio, prima di iniziare il calvario, l'annuncio della chiusura del suo bar su Facebook. Ma accade quello che non ti aspetti. In breve la notizia dell'addio diventa virale. L'idea di rinunciare al coinvolgente sorriso di Carlo Carbotti ha scatenato la reazione di migliaia di persone. Così è nata una spontanea gara di solidarietà. Una pioggia di messaggi, anche quello del sindaco, hanno riacceso la fiammela della speranza. Anche i bambini lo avevano supplicato di non arrendersi. E così Carlo e sua moglie si sono rimboccati le maniche ed animati dalla spinta della gente hanno deciso di riprovarci. Oggi, dopo cinque lunghissimi mesi, quella saracinesca in via Diaz si è rialzata, così come la dignità di questo simpatico commerciante. Il suo locale è tornato ad affollarsi, soprattutto di giovani, perché nella sua filosofia commerciale, ad esempio, non è prevista la vendita di alcolici. Un inno alla speranza, giunge da Grottaglie, ripartire si può. È successo che praticamente abbiamo avuto un grosso sostegno da parte della nostra comunità grottagliese. Praticamente mio marito, che è Carlo Carbotti, che conoscono un po' tutti, è un simbolo del paese, sempre allegro e quindi do sempre a lui carta bianca di gestire la situazione, anche se io sarei la titolare. Quello che ci ha fatto riaprire è proprio stata la qualità delle persone che ci sono state vicine e grazie a loro noi abbiamo praticamente avuto queste forze, queste energie per andare avanti. Non lo so che è successo, ma ho avuto veramente una solidarietà dalle persone, dalla gente. Mi è stata proprio vicina, è una cosa incredibile. Non me l'aspettavo neanche. Sulla mia pagina ho oltre 28 mila visualizzazioni. Non mi era mai successo. Non credo neanche di meritarmelo, non lo so perché, però tu ti dici no, no, ti fai voler bene, ti fai voler bene. C'erano bambini che volevano mettere i soldi per non farmi chiudere. Ma alla fine quanto ha raccolto? Niente, perché ho rifiutato. Ho rifiutato, non ho accettato la raccolta. È stata una cosa, mio fratello mi ha fatto i lavori, è stata una cosa in economia, ma siamo andati avanti così. Una bella storia. Un'altra storia invece è molto meno bella, una storia di violenza dove un candidato al Consiglio Comunale di Latiano, città dove si andrà al voto per le amministrative, ha denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito. Sentite. Sarebbe stato insultato, aggredito, buttato a terra, picchiato con calci e pugni per una prognosi di 30 giorni con una frattura alla mano sinistra che richiederà anche un intervento chirurgico. La sua colpa essere candidato con il sindaco uscente Mino Maiorano e aver chiesto all'interno di un bar di cui era cliente abituale una firma da apporre sul documento di presentazione della lista. Una richiesta normale prevista dalla legge che però si è trasformata in un incubo per un trentenne di Latiano finito suo malgrado in ospedale a causa dei traumi e delle ferite riportate nel pestaggio. C'è una denuncia già presentata alla locale stazione dei carabinieri con il trentenne che ha fatto nome e cognome del presunto aggressore ovvero il titolare dello stesso bar dove il giovane fotografo si era presentato con il classico modulo all'interno del locale una dipendente e la moglie del gestore quest'ultima secondo il racconto del trentenne aveva scarabocchiato il foglio con le firme già raccolte perché questo sindaco a me non piace. Poi qualche ora dopo il marito della donna ha cercato il poveretto fermato e picchiato in strada tua mia moglie non la chiami scema avrebbe detto e poi giù di botte la furia del barista si è riversata pure sulla targa dello studio professionale dello sfortunato fotografo e anche su un altro uomo che aveva cercato di fermare il pestaggio alla fine il poveretto è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana e nelle ore successive agli uffici della stazione dei carabinieri dove è stata protocollata la denuncia che macchia di inedita violenza questa campagna elettorale ai militari ora il compito di fare luce sulla vicenda. Accuse quelle che abbiamo ascoltato ovviamente come sempre tutte da dimostrare ma intanto il sindaco di Latiano Mino Maiorano con un post su Facebook parla di giornata triste per la nostra comunità che ha visto la celebrazione di un atto di gratuita incomprensibile violenza su un ragazzo per bene un bravo professionista e fortemente impegnato nel sociale qual è il nostro amico Vincenzo con il quale sono stato in contatto nella giornata odierna esprimo la mia vicinanza e solidarietà condanno ogni forma di violenza sia nelle parole che nei gesti e faccio appello alla compostezza all'unità ai toni pacati per tenere alto il dialogo democratico attraverso cui i cittadini nel rispetto delle opinioni differenti possano tornare conclude Maiorano a ritrovarsi nell'essenza autentica di una latiano città democratica liberale e solidale Sereddin casa Brindisi c'è un nuovo scontro a livello societario lunga nota da parte dei soci Brindisini del sudalizio calcistico adriatico in possesso del 45% delle quote societarie che tramite il socio Francesco Bassi chiedono Umberto Vangone di lasciare le cariche ricoperte di presidente e amministratore della società i dirigenti componenti dalle quote del gruppo hanno spiegato che dopo aver fatto fronte per le proprie competenze al ripianamento delle aspettanze previste per la pratica di iscrizione si trovano costretti a rilevare come gli sia stato chiesto nella persona del presidente Vangone la marginale partecipazione alle decisioni gestionali per lo sviluppo del progetto sportivo Brindisino portandosi legge nella nota ad una incompatibilità professionale ed una simmetria informativa tra le parti coinvolte nella gestione societaria in più occasioni evidenziata nel corso della passata stagione Francesco Bassi nei fatti rappresentanti unitamente i soci Brindisini del 45% della composizione societaria chiede quindi al presidente amministratore Umberto Vangone di rinunciare alle proprie rilevanti cariche nel sodalizio in favore di una terza figura da nominare nel corso della prossima assemblea dei soci ai fini di ripristinare secondo i soci Brindisini una più chiara e condivisa gestione societaria a far riemergere la contrapposizione fra le parti l'imminente presentazione del tecnico Michele Cazzarò avvenuta evitando secondo i Brindisini di informare la restante parte dei soci operativi e finanziatori del sodalizio della fondamentale scelta operata presa in totale autonomia e concludono in caso di un pubblico rifiuto da parte del presidente Vangone all'invito avanzato i titolari dell'intero 45% delle quote societarie procederanno a fare le proprie valutazioni impossibilitati nei fatti a garantire tangibilmente supporto al progetto non è comunque escluso che nella giornata di martedì possa essere confermato l'incontro previsto tra i soci che potrebbe dare le risposte di questo ennesimo confronto a distanza per la serie C parliamo di mercato con la Virtus Franca Villa calcio che sta ovviamente monitorando la situazione la sensazione però è quella che non ci saranno stravolgimenti in casa biancazzurra sarà un calcio mercato davvero molto lungo quest'anno ma in casa Virtus Franca Villa si hanno già le idee abbastanza chiare su quelli che sono gli obiettivi si ripartirà da una solida base formata dai senatori che sono stati protagonisti nelle ultime stagioni biancazzurro inoltre il padrone Antonio Magri ha più volte ribadito che la Virtus Franca Villa quest'anno non farà grandi movimenti di mercato a meno che non ci saranno delle uscite importanti che al momento però non sono ancora preventivate certo è che gli imperiali dovranno anche fare i conti con la nuova regola che impone la rosa bloccata a 22 calciatori un dettaglio non da poco ma sicuramente una notizia non positiva tenendo in considerazione il fatto che i biancazzurri hanno già diversi calciatori sotto contratto in rosa perciò inevitabilmente per ogni arrivo probabilmente corrisponderà anche una partenza parliamo di mercato anche per il Taranto con quello che il nostro Enrico lo sito definisce l'attimo fuggente del mercato sentiamo la pazienza la pazienza la pazienza è la virtù dei forti ed elemento essenziale nel mercato rosso-blu con sei nuovi acquisti e una riconferma in attesa di quelle di Ferrara Marino e forse di Matute all'appello mancherebbero almeno 14 elementi in un periodo in cui le occasioni di mercato non mancano come quella dell'attaccante panamense Eric Herrera classe 92 liberato di recente dalla Sly Trani è reduce dall'ottimo campionato di Sorrento dove ha totalizzato 24 presenze realizzando 9 gol i primi contatti sarebbero già stati avviati dalla fine della scorsa settimana per la fumata bianca si vedrà sempre dalla Sly Trani altri giocatori potrebbero tornare di moda nel mercato ionico oltre al difensore argentino González ci sono il connazionale Facundo Ganci 32enne centrocampista ex Fasano dove ha totalizzato 25 presenze e un gol e l'attaccante Loris Palazzo 29 anni 10 gol in 25 apparizioni con la Fidelissandria il club ionico è impegnato anche nella costruzione del Parco Amber nelle prossime ore potrebbero essere concluse almeno un paio di operazioni e chissà che quel talento di Ganci non arrivi poi sullo ionio noi ci fermiamo qui con questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo come sempre vi invito a sfruttare i nostri canali web e social canalo85.it il nostro sito ma siamo anche su Facebook su Youtube anche su Telegram dateci un'occhiata ci potete cercare canalo85 iscrivendovi al canale riceverete le notizie in tempo reale direttamente sul vostro telefonino è davvero tutto per questa edizione l'informazione torna in diretta alle 13 e 55 io vi ringrazio per la cortese attenzione vi auguro un buon proseguimento di giornata a Grazie a tutti.